Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, ieri sera, ancora una volta, Massimo Giletti, che ormai davvero è rimasto, si può dire, l'unico giornalista che fa delle inchieste vere, delle inchieste serie, che ci mette la faccia, ha parlato del problema che riguarda la magistratura, la giustizia italiana, le collusioni tra politica e mafia erano presenti, come ormai lo sono state nelle ultime puntate, il sindaco di Napoli, ex magistrato De Magistris, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, il senatore, nonché avvocato Liccheri, Telese, era presente in studio, il giornalista. Ancora una volta, Massimo Giletti è stato molto bravo a portare anche degli elementi nuovi, che dimostrano, se mai ce ne fosse ancora necessità, di quanto marcio ci sia all'interno della magistratura, ma soprattutto di quanto siano forti le convivenze tra politica e la magistratura. Ora, peccato che era l'ultima puntata e il rischio è che poi la cosa vada nel dimenticatoio, che è una cosa che ha dell'incredibile, perché davvero è inimmaginabile come in un paese democratico fosse scoppiato nelle ultime settimane una bomba incredibile, partendo dalle intercettazioni, le intercettazioni che vedono coinvolti Palamara, ma che sicuramente vedono coinvolti tantissimi altri magistrati, politici, giornalisti, per proseguire poi con l'uscita di tantissimi boss mafiosi dalle carceri. Un segnale pessimo, un segnale di una giustizia ormai allo sfascio, questo almeno è quello che arriva profondo nell'anima dei cittadini. E tra tutto questo l'incredibile, l'incredibile silenzio del presidente Sergio Mattarella. Un silenzio così inaccettabile, un silenzio che fa male, che qualifica questo presidente. Io ritengo che insomma quando si occupa un certo tipo di ruolo il rispetto bisogna guadagnarselo e non è che così solo perché uno ricopre una carica così alta i cittadini devono essere ossequiosi e rispettosi nei suoi confronti. Perché davvero guardate che io nella storia del dopoguerra non individuo un presidente della Repubblica peggiore del signor Sergio Mattarella, che faccio veramente fatica a chiamare presidente della Repubblica. Adesso parliamoci chiaro. Su questa faccenda, dove lui, attenzione, è il presidente, perché lui non solo è il presidente della Repubblica, ma è anche il presidente del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. E qui noi stiamo parlando proprio della giustizia, della magistratura. Non una parola, non un intervento. Spesso nel passato il presidente Mattarella così si è trincerato dietro al fatto che un presidente deve stare al di sopra delle parti, deve in qualche modo così stare a guardare, a riflettere su quello che sta accadendo e quindi lui preferisce in queste circostanze non intervenire. Che assolutamente non è condivisibile anche se guardiamo la storia. Perché se guardiamo tutti i suoi predecessori, da Cossiga a Napolitano, a Pertini, lo stesso Scalfaro, tutti i presidenti che sono intervenuti, anzi talvolta anche troppo, nelle vicende della politica italiana. Ma voi capite che in una tale emergenza, in una tale drammaticità, lui avrebbe il dovere di intervenire e soprattutto avrebbe il dovere di prendere delle decisioni. Ancora una volta ieri Giletti l'ha chiaramente detto come non è accettabile che un ministro della giustizia non spieghi agli italiani quello che è successo e soprattutto non abbia ancora dato le dimissioni. L'Icheri ha cercato in ogni maniera di giustificare qualsiasi azione, ma era talmente evidente che è ingiustificabile quello che è successo, quello che sta accadendo. Io inoltre mi faccio un'altra domanda. Ma cosa deve accadere affinché questo paese si svegli dal suo letargo e reagisca? Però vedete, purtroppo una risposta me la sono data. Gli italiani, in linea di massima, non sono a conoscenza. Basta fare dei piccoli test anche fra le persone che conosciamo. Ad esempio anche questa storia tra Di Matteo e Bonafede, guardate che pochissimi sono al corrente di questa storiaccia, pochissimi. Così come addirittura io ho scoperto che molti non sono neppure al corrente che quasi 400 boss mafiosi hanno potuto uscire dalle carceri. Cioè la gente, l'italiano medio, non si informa. Sappiamo che siamo i peggiori lettori di giornali di tutta Europa, di tutto il mondo occidentale, ma non solo non leggiamo le notizie, i giornali, ma figuriamoci se apriamo un libro. Noi dobbiamo dircelo, questo è l'italiano medio. Questa è una delle ragioni principali per le quali non c'è reazione, perché la gente non sa, se ne frega altamente, se ne frega altamente e si accorgerà solamente quando sarà tardi. Compito nostro è continuare a battere il tasto, continuare a parlare di queste cose che sono gravissime. Tra l'altro guardiamo anche la storia dei 5 stelle, ma io davvero, se fossi uno che ha votato 5 stelle, io avrei la voglia di andare a casa di Beppe Grillo, di prenderlo a schiaffoni, a calci nel sedere. E con questo tutti i deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle. Sono veramente dei personaggi schifosi, dei volta a Gabbana incredibili, incredibile rispetto a quelle che erano le loro idee di partenza, di quello che era così il loro obiettivo, di mettere all'aria quello che nel nostro paese era inaccettabile, di attaccare i poteri forti. Stanno facendo esattamente il contrario, tanto che io davvero penso che ci potrebbe essere dietro un disegno che Beppe Grillo non ha mai avuto in mente di sovvertire il potere, ma in qualche modo di convivere con il potere stesso e forse lui addirittura lo rappresenta, perché non c'è un'altra spiegazione. Finiamo ancora con il presidente Mattarella. Cioè Mattarella pretende il rispetto, no? Vi ho parlato qualche giorno fa di Nicola Franzoni, che è stato portato in questura come il peggior criminale, perché si è rivolto in toni molto duri nei confronti della politica del presidente Mattarella, del presidente del Consiglio Conte. Ma come si fa in una situazione del genere a non capire questa reazione da parte di uno che ha perso tantissimo, un ristoratore che si trova in grandi difficoltà di fronte a un presidente che ha simili comportamenti? Ripeto, secondo me, secondo la mia esperienza, ormai ho qualche anno, è il peggior presidente che questa repubblica abbia mai avuto dal dopoguerra. Un presidente inesistente è un presidente che fa il male di un paese. E se poi, ripeto, la cosa più assurda è il presidente del CSM e sulla giustizia, su quello che sta accadendo, sulla cosa che ci sbalordisce tutti i giorni per le notizie che escono, lui non fa parola, voi capite che questo veramente ci lascia in uno sconforto il più totale. Questa è la drammatica situazione della nostra politica. E noi dobbiamo trovare il coraggio per reagire, dobbiamo trovare la forza per unirci e mandare a zero tutto quello che vediamo davanti, che abbiamo davanti agli occhi e mandare a casa tutta questa politica. Io all'inizio ero abbastanza scettico sul fatto che il generale Antonio Pappalardo non solo volesse mandare a casa il governo, ma tutti i parlamentari. Ecco, io mi sto facendo l'idea che forse, anzi, sicuramente, il generale ha ragione. Dobbiamo radere al suolo tutto e cercare di ripartire da capo. È l'unica salvezza per il nostro paese. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.